L'agenda digitale è una roadmap che impone obiettivi stringenti, mentre gli enti locali sono chiamati a sbrogliare la matassa tra legislatore e cittadini. E spesso ognuno lo fa da solo, con pochi strumenti, senza tempo, personale, incalzato dalle scadenze. Una formica o un neurone non sono così intelligenti. Una persona da sola non è particolarmente efficace. Quando elementi così semplici interagiscono e si auto-organizzano, si attiva un comportamento collettivo. Si moltiplicano immaginazione ed esperienza, si negozia in tempo reale, trovando soluzioni pratiche a problemi complessi. Questa è intelligenza collettiva. Ogni comune ha il compito di raggiungere i cittadini, di fare da tramite, di farsi capire. E proprio l'emergenza ci ha dimostrato che il 95% degli utenti può accedere online. Ogni comune in tutto questo è da solo. Tanto lavoro fatto, investimenti, impegno per risultati limitati. Ma insieme possiamo moltiplicare questi risultati, usando il portale del Comune di Cagliari come modello. Una piattaforma collettiva per i servizi al cittadino, usabile, semplice e chiara. Uno strumento dinamico, progettato per evolversi, capace di recepire le nuove necessità del cittadino e di esprimere l'accento identitario di ogni comune. La sfida è realizzare lo strumento adatto, tutti insieme. Questa è la sfida e l'occasione. Il mezzo che ci apre la strada è il PONMETRO, la piattaforma abilitante per realizzare il catalogo dei servizi digitali dei comuni italiani. Le città metropolitane usate come volano disseminano sull'intero territorio nazionale le soluzioni prodotte. Lo scopo del PONMETRO è quello di scatenare l'intelligenza collettiva. Entra nella community e partecipa al comportamento emergente. Perché se ora siamo soli con problemi sempre nuovi, nella community ogni soluzione viene condivisa. Perché se siamo soli di fronte ai cittadini, nella community ogni soluzione è progresso per tutti. Perché se sono necessarie grandi prestazioni, insieme le possiamo ottenere con meno energia per ciascuno. Perché se il progetto di Cagliari è ancora imperfetto, l'ultimo miglio può essere fatto nella community, dove ognuno ha la possibilità di intervenire e dare al progetto la forma di cui ha bisogno. Riusa il portale del Comune di Cagliari come modello. Partecipa alla community. Sviluppo dinamico condiviso per raggiungere i cittadini attraverso l'intelligenza connettiva dei comuni italiani per liberare le risorse delle città resilienti.